Bella a tutti ragazzi, ben ritornati sul canale di Piz89 e oggi volevo parlarvi di una cosa molto importante allora, io... aspetta un attimo quanto riguarda la serie di Clash Royale lo sapete che ho portato abbastanza episodi non mi ricordo più se forse li ho portati 21 o 22 e non mi ricordo più, comunque andate a vedere voi e mi sento il dovere di chiudere questa serie dicevo, mi sento il dovere di chiudere questa serie di Clash Royale perché di chiuderla questa serie di Clash Royale? perché su questi 21 o 22, non mi ricordo più, di questi episodi qua di Clash Royale la maggior parte li ho persi e quindi mi sento il dovere di chiudere questa serie perché non voglio fare vedere i miei scritti che diciamo, lo dico proprio, sono grammo su Clash Royale non mi sento il dovere di farlo vedere i miei scritti l'hanno già visto comunque però non allungo più di tanto questa serie perché Clash Royale comunque lo vedete ancora qua ma se faccio altri video su quella schermata lì, sulla cartella giochi non lo vedrete mai più perché io, come ho già detto, non sono capace di giocare a Clash Royale quindi non sono tanto capace, diciamo non riesco bene a sistemare le truppe, i mazzi e così e quindi io la serie di Clash Royale la termino qui perché non voglio allungarla più di tanto a fare vedere i miei scritti cioè, ho già fatto un video che sono retrocesso in Arena 5 ero in Arena 6, poi sono retrocesso in Arena 5 e quel video lì l'ho messo sul canale quindi mi sento, diciamo, un po' in imbarazzo per questi video che vi porto quindi diciamo che io la serie di Clash Royale la termino così anche voi non guardate sempre i miei video continuare a perdere, a perdere, a perdere, a perdere e quindi non faccio più video su Clash Royale se volete vi porto solo video di Clash of Clans che lì c'è, ho un po' il villaggio scarso però sono leggermente un po' più forti di Clash Royale poi vi porto anche un video di questo gioco qua se volete, Nemstar Soccer e così via quindi vi invito a lasciare un bel like di condividere il video di andare sulla mia sul mio profilo Instagram che è questo CAC più A uguale cuore è la mia ragazza che è questa ragazza molto bella vi invito a andare a seguirmi su questa pagina guardatela bene questa pagina di andarmi a seguire comunque voi scrivete andrea.piz89 e vi salta fuori di sicuro c'ho l'immagine di FIFA 17 e l'ultima foto l'ho messa oggi niente regà è tutto mi dispiace di non portare più video di Clash Royale ma mi sento proprio il dovere di non portarli più perché li perdo troppo quindi vi saluto lasciate un bel like per supportare il canale ciao regà